Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, io come vi avevo detto da tempo, all'inizio è accaduto, credendo anch'io nella censura sul caso Scurati, poi vi ho raccontato che, per esempio, Travaglio ha preso i documenti, ha analizzato i documenti, ha messo in fila le e-mail, le date, le ore e dice non c'è stata censura. Lo dice Travaglio che non è un meloniano, non è un leghista, non è un berlusconiano, anzi, anzi. Quindi quando ho sentito Travaglio dire che non c'è stata censura, ha analizzato i documenti, io non ho potuto analizzare i documenti, sono stato poi propenso a credere a Travaglio che l'ho potuto fare e non è di certo uno di centrodestra, dice non c'è stata censura. Bene, adesso arriva la conferma perché la presidente della RAI, Marinella Soldi, ha negato in modo chiaro ogni ipotesi di censura sul caso Scurati, mentre il PD addirittura delirando parla di pressioni su Marinella Soldi. Questa è la storia di Marinella. Beh, dice così, le presidente Soldi ha perso un'occasione per dimostrare alla Commissione di Vigilanza RAI di aver svolto il proprio incarico con equilibrio e garanzia, dicono dalle parti del PD. Adesso non si stupisca se in tanti si stanno domandando quali pressioni ha ricevuto in queste settimane, da chi e per quali ragioni. Dopo aver accusato pubblicamente Rossi e Sergio per la gestione del caso Scurati, la presidente ha oggi ritrattato completamente la sua versione che parlava di omissioni e ricostruzioni parziali, avvallando la tesi della violazione della politica aziendale da parte della giornalista Bortone. Anzi, la presidente della RAI ha detto che non solo a Bortone andava mandata una lettera di contestazione per la reputazione della RAI, ma doveva essere mandata anche ad altri. Di solito il RAI ho lavorato per una settimana, quindi ho di là sopra in ufficio il contratto e ricordo che nel contratto c'erano delle clausole dove tu non puoi rivelare a persone terze quello che stai facendo, come lo stai facendo, insomma c'è la clausola di riservatezza, e poi non devi comunque raccontare i fatti dell'azienda fuori, sui social. E la Bortone era andata proprio sui social a parlare di censura e quindi era stata lesa la reputazione della RAI. E guardate che ledere la reputazione della RAI è una roba costosa, perché insomma non è una cosa da pochi euro, è qualcosa di abbastanza pesante se uno si vuol mettere a quantificare quanto vale la reputazione della televisione di Stato. Però questo non è compito mio fare queste valutazioni. Quindi valutano l'inversione a U della presidente della RAI come sotto pressione, ma è tutto completamente una loro idea del PD, non c'è nessuna cosa nella realtà che lo possa dimostrare. Infatti il PD dice una drastica inversione a U che aumenta la confusione e non fa chiarezza su quanto accaduto. A un mese dalla mancata messa in onda del monologo di Scurati, ancora oggi non sappiamo chi gli ha materialmente revocato il contratto, mascherando la censura con motivi editoriali. Visti questi continui rimpalli da parte dei vertici RAI che sviliscono il ruolo della Commissione di Vigilanza, presenteremo una formale interrogazione parlamentare per sapere dall'amministratore delegato chi ha firmato materialmente la revoca del contratto a Scurati. Fratelli d'Italia risponde, la vicenda Scurati si è finalmente chiusa oggi in Commissione di Vigilanza RAI, a mettere la pietra tombale sulla polemica del PD è stata la presidente Soldi, la cui audizione peraltro era stata chiesta a gran voce proprio dal partito di Schlein, il PD. La presidente dichiara in più occasioni che non c'è stata censura. Mentre la sinistra sperava di continuare a speculare su questo fatto in vista delle elezioni, sperava di poter sciacallare allegramente in vista delle elezioni, parlando di un regime fratellista, la teoria del complotto. Secondo il PD infatti la presidente Soldi avrebbe subito delle pressioni, voi direte ma hanno delle informazioni? No, se lo stanno completamente inventando. Quindi avrebbe secondo il PD subito delle pressioni per smentire qualsiasi ipotesi di censura. Insomma in una scala del ridicolo siamo ben sopra della falsa teoria della censura. Allora, a parte questo che dice appunto il PD, non ci sono le basi per affermare questo, sono delle illazioni. Sono delle illazioni e dire che la presidente della RAI ha ricevuto delle pressioni è diffamazione. Insomma, se vogliamo dire le cose come stanno si configura la diffamazione perché non hanno nessuna prova per affermare che lei abbia subito delle pressioni e dire che una persona ha subito delle pressioni sul lavoro e non è vero si chiama diffamazione a mezzo stampa. Comunque, diciamo che ammettendo anche che ci sia stata censura, anche se non c'è stata, ma ammettendolo. Ma secondo voi, se la legge dice che quando arriva un governo ha il diritto dovere di mettere le proprie persone in RAI e quando metti le tue persone in RAI la RAI diventa praticamente al tuo servizio, lo dice la legge italiana introdotta dal PD nel 2015 Correnzi. Ecco, quando la televisione di Stato diventa del nuovo governo e arriva uno scrittore che deve fare un monologo dove la prima metà va bene, la seconda metà è un attacco alla presidente del Consiglio dicendo che è fascista, se sta per andare a dirlo sulla televisione di Stato sotto il controllo del governo e tu vai lì ad offendere la presidente del Consiglio che controlla la RAI, capirete anche voi come può finire. Secondo me non c'è stata censura, però anche se ci fosse stata, ve l'ho raccontato, non sarebbe una cosa così strana. Se tu hai il controllo su un'azienda e un dipendente ti vuole offendere durante un'audizione, tu quello non lo fai parlare. Non è poi così una roba da scandalizzarsi, bisogna essere anche persone di mondo. Se tu dai a un governo il controllo su un'azienda e un dipendente, non un dipendente, una persona esterna vuole insultare il presidente del Consiglio, secondo voi come finisce? Bisogna essere anche realisti e dire le cose come anche potrebbero essere andate. Arrivederci a tutti e grazie.